Giornata di scioperi, quella di ieri, sotto le sedi del Comune di Napoli. In via Verdi, rappresentanti della cooperativa 7 novembre del Comitato Vele di Scampia 167 sono riusciti a ottenere un incontro con la Presidente del Consiglio Comunale, Vincenza Amato, alla quale hanno sottoposto una richiesta di sostegno all'amministrazione per ottenere lo sblocco del tavolo interistituzionale sulla formazione finalizzata all'inserimento al lavoro e sradicare la tendenza a trattare le vertenze per il lavoro come questioni di ordine pubblico. A fine incontro, la Presidente Amato ha confermato la volontà delle istituzioni ad avviare al più presto la formazione dei disoccupati di lungo corso, annunciando inoltre la stesura di una mozione supportata dai capigruppo presenti alla riunione a sostegno delle richieste portate dai manifestanti. In Piazza Municipio, invece, sotto Palazzo San Giacomo, a riunirsi sono stati i lavoratori interinali di Asia, l'azienda che per conto del Comune si occupa della raccolta dei rifiuti. Proseguono dunque anche le proteste dei lavoratori dell'azienda, che dal 12 gennaio presidiano in maniera permanente l'esterno della sede del Comune, manifestando la gravità dei tagli al personale in somministrazione. 39 gli operatori già toccati dal provvedimento, ma è concreta la possibilità di ulteriori tagli. Ecco com'è vissuta la situazione dagli stessi lavoratori Asia. Io e mio marito siamo nella stessa situazione perché entrambi siamo interinali, perché purtroppo lavoravamo nello sport e durante la pandemia siamo rimasti senza lavoro. Abbiamo fatto il bando in time, siamo riusciti ad entrare e dopo un anno ci hanno cacciato fuori. E quindi siamo entrambi senza lavoro e non sappiamo cosa fare. Siamo 160 famiglie, non sappiamo cosa fare, siamo disperati. Il sindaco ci aveva promesso che per noi si sarebbe sempre trovato una soluzione. Invece l'azienda ad oggi non solo ha licenziato 39 nostri colleghi, ma sappiamo che è pronta un'altra lista per licenziare altri colleghi. Oggi c'era stato detto dall'assessore Amarciani che ci stava un incontro tra il sindaco e Domenico Ruggero proprio per discutere di questa problematica, ma non abbiamo avuto ancora conferma. Io ho lasciato a casa una bambina di due anni con la febbre per venire qui. Per loro lo faccio, lo faccio per loro. Mi alzo la mattina per dare una dignità ai miei figli, per portare il pane a casa. Mio marito è anche disoccupato, quindi non sappiamo proprio come fare, siamo disperati. Aiutateci, il sindaco deve vedere un po' cosa fare perché siamo tutti bisognosi di questo lavoro. Mio marito è un po' cosa fare perché siamo tutti bisognosi di questo lavoro. Mio marito è un po' cosa fare perché siamo tutti bisognosi di questo lavoro. Mio marito è un po' cosa fare perché siamo tutti bisognosi di questo lavoro.